Sì, è benissimo, io amo essere lodato, quindi anche i vostri applausi mi fanno molto piacere, però devo fare una missione che io quando sono arrivato dopo Montanelli ero convinto che avremmo chiuso il giornale, perché via Montanelli, il giornale di Montanelli non aveva più senso. E allora che cosa è successo? È successo che Montanelli era convinto di portarsi via 150 mila copie, cioè tutte quelle che vendevamo noi. Questo mi è sembrato un eccesso di ottimismo e noi abbiamo cominciato a fare il giornale. Il giorno in cui Montanelli si fece fotografare alla festa dell'unità ho detto abbiamo vinto, perché io ho preso quella foto di Montanelli dietro la quercia, allora ricordate che il simbolo del PC era la quercia, l'hanno messa in prima pagina, ecco che fine ha fatto Montanelli.